Elegante ed al gusto moderno, ecco la casa di Nina Moric. La showgirl vive a Milano e attraverso Instagram è possibile sbirciare tra le mura domestiche e notare l'arredamento della sua dimora. Il salotto è luminoso, ampio e arredato con mobili e complementi d'arredo caratterizzati da linee moderne e da oggetti dal gusto orientale, con colori tendenti all'oro. Il comodo divano bianco e spazioso, impreziosito da alcuni cuscini, perfetto per godersi appieno la visione di un film in dolce compagnia. Nella sala è presente un grande televisore, circondato da una serie di fotografie in bianco e nero, che caratterizzano in modo particolare la parete. In casa non mancano poi quadri, che sono posti in modo ordinato e preciso sulla parete principale, sotto i quali vi sono due console decorate con svariati oggetti ed elementi di design. Anche la camera da letto è molto elegante. Il letto è infatti caratterizzato da tendaggi che donano all'ambiente stile e raffinatezza.